e ciao a tutti ragazzi ben ritrovati anche oggi qui sul mio canale nuovo video sempre in collaborazione con resolution shop ma prima sigla ed ecco qui ragazzi un altro monkey di ruffi che entra di prepotenza nella mia collezione ovviamente parliamo di una figure arts 0 ragazzi bandaita machination ovviamente qui tutti i vari loghi monkey di ruffi ovviamente protagonista la serie paramount war sarebbe la lotta marine for praticamente è la trasformazione di ruffi in gear second ne fanno abbastanza poche qui ragazzi ovviamente a parte frontale della nostra scatola conosciamo già le figure arts 0 qui la parte laterale ovviamente extra battle è la linea principale qui l'immagine il nostro ruffi qui dietro ce lo fa vedere con tutto l'effetto adesso andremo ad aprire varie scritte sotto altra qui stampa con primo piano del nostro protagonista qui ovviamente ragazzi c'è il sopra la scritta monkey di ruffi appare praticamente per la maggior parte qui il sotto altro primo primo della nostra figure adesso ragazzi l'apriamo e ve la mostro meglio eccola qui ragazzi la nostra figure arts 0 appena unboxata devo dire che a primo impatto è davvero molto piccola sarà per la posa sarà per l'effetto tutto racchiuso diciamo in un unico punto ma sembra davvero molto piccola qui ovviamente ragazzi prima panoramica della figure abbastanza grazioso l'effetto fumo dietro anche quello attaccato a luffi ora andiamo a esaminare il dettaglio però ragazzi io devo prima togliere la base un secondo eccola qui ragazzi la base molto carina molto bella ma io sto iniziando a apprezzare le figure arts 0 che c'è no che dove posso togliere la base perché a me ragazzi ste basi non piacciono più quindi via buttiamola ecco qui il nostro luffy nostra minifigure perché ripeto ragazzi davvero molto piccola qui ovviamente l'effetto che fortunatamente poteva togliersi ragazzi vela in quadro subito nel dettaglio il nostro luffy ripeto molto piccola però in viso ragazzi abbastanza fedele anche il colorito delle gear second effetto fumo mi piace molto vedo ragazzi e bandai è una figure di media fascia per quanto riguarda anche a livello economico l'unica pecca davvero visibile è l'attaccatura forse della mano che non è stata fatta in maniera eccezionale però per il resto ragazzi per quello che costa è abbastanza piacevole da vedere ora andremo a mettere nell'effetto vi faccio anche vedere effetto fumo anche questo molto bello visto da lontano ma se lo inquadriamo da vicino guardate quante attaccature c'ha potevano fare nettamente meglio visto le altre figure che ha sfornato bandai ma ci dobbiamo accontentare ragazzi come gear second e c'è davvero molto poco ovviamente riposiamo un secondo il cellulare rimettiamo la figura in ordine però faccio vedere meglio eccolo qui ragazzi luffy panoramica presa da più angolazioni questa volta con la fotocamera messa così diciamo che si vede di più il colore rosso di luffy rosso rosulio scuro come potete dire molto bella ragazzi io devo dire che è parecchio bella per come è impostata la figure certo ripeto bandai con le figures zero non cura tantissimi dettagli almeno per alcune però questa ragazzi è accettabile ripeto per me molto bella luffy in viso è abbastanza fedele anche anche la posa rivediamolo sempre angolazione a girare ragazzi per farvi vedere meglio molto bello ragazzi a me piace principalmente perché è in un momento dell'anime che a me è piaciuto parecchio come sapete sono fan accanito di ace adesso ragazzi andremo a metterla a paragone con le ultime due figure art zero di one piece che ho preso ed eccolo qui ragazzi messi insieme al papà barba bianca al fratello ace ma poi ovviamente intendo perché viene chiamato tutti papà barba bianca ecco qui il mini diorama che sono riuscito a creare con questi tre personaggi che a me ovviamente ripeto le figure art zero se formano i diorami fanno impazzire davvero però singole come le vecchie non mi fanno più emozionare come prima quando le acquista in collezione qui il diorama ragazzi è stato davvero il top per barba bianca ace e luffy mi piaceva metterlo col trio perché ripeto è un momento particolare dell'anime che mi è piaciuto molto e quindi volevo ricreare questo un po tutto particolare con cui ovviamente rinquadriamo tutti nel dettaglio il nostro protagonista luffy il babbo barba bianca è il fratello portogues di ace vediamo se riesce a mettere a fuoco eccolo qua altra piccola breve panoramica delle nostre tre figure art zero molto belle ragazzi sono ormai molto di impatto queste figure art zero ripeto non curatissime nei dettagli ma molto belle molto sceniche anche questa volta ragazzi spero vivamente che vi sia piaciuto il video mettete mi piace condividete commentate se volete cercherò sempre di rispondere che dire dalle nostre figure art zero ragazzi soprattutto da monkey di ruffi è tutto anche da mascarato al prossimo video ciao